Stasera una festa tema Halloween, vediamo che cosa possiamo creare con questi trucchi Grazie a tutti Ma è possibile che mi devi sempre rovinare le atmosfere? Che figata questo trucco Vitto, ho una festa di Halloween questa sera Ah sì? Non mi direi che ho usato i miei trucchi? Ah no no no, i miei trucchi li ho trovati sulla mia scrivania con tante di biglietto per Laura dalla tua mammina La mamma sta incominciando a capire Che cosa? No, non ci credo, ora glielo vado a dire Vai pure cara, solo io sono la sua regina Meglio che chiudo la porta chiave che sono sicura che fra meno di 5 secondi salirà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti